Trump è stato incriminato a Mar-a-Lago. Ci risiamo. Questa volta è per la storia dei documenti riservati. Contro di lui ci sono sette capi di imputazione, intralcio alla giustizia, distruzione o falsificazione di documenti, associazione a delinquere e false dichiarazioni. È stato incriminato in Florida, a Miami. È molto probabile che la giuria non sarà unanime. Io penso che le sue probabilità di ottenere un processo equo siano buone e, francamente, non credo che arriveranno da nessuna parte, ma sarà un buon palcoscenico politico in vista delle elezioni del 2024. E secondo me il motivo è questo. Secondo me stanno solo cercando di sommergere Trump di polemiche. Lo stanno facendo dal 2016, ma finora non ha funzionato. Stanno cercando di sommergere Trump di polemiche affinché nessuno osi schierarsi dalla sua parte, perlomeno all'interno dell'establishment repubblicano, a favore di un De Santis, un Mike Pence o qualcun altro. Io penso che l'establishment repubblicano voglia davvero Mike Pence e Fox News e la maggior parte dei principali notiziari ospitano sempre gli altri candidati repubblicani, perché Trump è troppo controverso. Hanno paura di toccarlo. La CNN l'ha mandato in onda e il suo amministratore delegato è stato licenziato, a quanto pare perché un articolo di The Atlantic criticava la CNN per aver osato invitare Trump lasciandolo parlare liberamente. Stanno cercando di trasformarlo in un appestato. Se lo tocchi, se lo porti nel tuo programma, sei fuori. Tornando all'incriminazione, lo ripeto, io non penso proprio che questo processo andrà da nessuna parte. Questa cosa l'hanno fatta Obama, Hillary Clinton, Mike Pence, Joe Biden e, a quanto pare in modo molto più grave, l'ha fatta anche Bill Clinton. Tutti i presidenti, da Ronald Reagan in poi, si sono portati a casa documenti riservati. Trump aveva desecretato i documenti. La lettera in cui dichiara di aver tolto il segreto di Stato è pubblica. Ma qui la questione sarà se i documenti che ha portato a casa erano effettivamente quelli che aveva declassificato. Ma il modo in cui viene inquadrata tutta la questione è semplicemente ridicolo. A mio parere, è una grande sciocchezza finalizzata a creare polemiche. Il processo più serio con cui cercheranno di colpirlo è quello per il 6 gennaio, che è ancora in corso. Ne ho parlato con alcuni colleghi e ho visto cosa dicono anche altri. La convinzione comune tra i giornalisti è che l'establishment non voglia tenere questo processo a Washington DC. Perché, parliamoci chiaro, abbiamo visto quanto imparziale, sia stato finora il giudice del processo del 6 gennaio. Trump non ha modo di avere processo a equo a Washington. Non ha la minima possibilità di avere una giuria a equa. E il giudice ha reso evidente la sua estrema parzialità. Quindi Trump non ha una sola possibilità di ricevere un processo a equo a Washington. Ma i suoi elettori li sono rimasti accanto nonostante due anni e mezzo di propaganda sul 6 gennaio. E continuano a stare dalla sua parte. Queste cose non cambiano il modo in cui la gente vota. Anzi, io credo che, nonostante l'accumularsi di tutti questi procedimenti a carico di Trump, sia mirato a privare le persone del diritto di voto, stiano ottenendo l'effetto opposto. Ma intanto, vediamo la notizia. Allora, l'8 giugno, l'ex presidente Donald Trump ha dichiarato che i suoi avvocati lo hanno informato che è stato incriminato dal procuratore speciale Jack Smith in relazione a un'indagine sulla sua gestione di documenti riservati. Trump, su Truth, ha reagito così. La corrotta amministrazione Biden ha informato i miei avvocati che sono stato incriminato, apparentemente per la bufola degli scatoloni, anche se Joe Biden ha 1850 scatoloni all'Università del Delaware, altri scatoloni a Chinatown, D.C. e altri ancora all'Università della Pensilvania, oltre ai documenti sparsi su tutto il pavimento del suo garage, dove parcheggia la Corvette, che è chiuso solo da una porta di carta velina, che poi è quasi sempre aperta. Poi, in un altro post, Trump dice, Non avrei mai pensato che una cosa del genere potesse accadere a un ex presidente degli Stati Uniti che ha ricevuto molti più voti di qualsiasi altro presidente in carica nella storia del nostro paese e che attualmente è di gran lunga davanti a tutti i candidati, sia democratici che repubblicani, nei sondaggi per le elezioni presidenziali del 2024. Sono un uomo innocente. La notizia dell'incriminazione di Trump è arrivata pochi giorni dopo un incontro di due ore tra i suoi avvocati e dei funzionari del Ministero della Giustizia in cui hanno espresso preoccupazione per il modo in cui il caso è gestito. Passiamo alle cose più importanti. Prima di tutto, Trump sta affrontando molte indagini diverse contemporaneamente, come il procedimento Stormy Daniels con Alvin Bragg a New York che si sta sfasciando in modo grandioso. perché uno dei sostituti procuratori di Bragg, il capo della procura che ha incriminato Trump, se n'è andato, ha scritto un libro e poi si è fatto il giro di tutti i giornali e praticamente ha fatto affondare l'intero procedimento che ormai è fallito miseramente. Probabilmente cercheranno comunque di processare Trump, ma ormai il caso di Stormy Daniels è spacciato. L'altro procedimento, l'accusa di stupro, è un reato minore e Trump dovrebbe solo pagare una multa, ma ciò nonostante, lui si sta difendendo. In ogni caso, non credo proprio che questo procedimento porterà qualcosa di diverso dal pagamento di una multa. Per il procedimento del caso Mar-a-Lago, invece, e qui torniamo al punto, Trump dovrà andare a processo a Miami, ma in quel caso il suo discorso sarà molto semplice. Ragazzi, Joe Biden, quando era solo senatore, si portava a casa documenti riservati e vogliamo parlare di quel documento che dimostra la corruzione, quello che l'FBI ha cercato di nascondere agli inquirenti e persino al Parlamento, oppure vogliamo parlare del fatto che proprio uno di quei documenti che Biden si teneva in casa è più che sufficiente a incriminarlo, come minimo, per corruzione e abuso d'ufficio? Insomma, sarà un colossale scandalo per i democratici. Per non parlare dei documenti che tiene a Chinatown o del fatto che, come ha ammesso pubblicamente lui stesso, ha fatto cacciare via l'inquirente ucraino che stava indagando sul suo figlio Hunter e Burisma, la compagnia del gas ucraina, mentre lui, Joe, era tutto impegnato a spianare la strada per gli accordi sul gas ucraino servendosi del suo potere politico e che, in particolare, era nel panel con un altro tizio che in questa faccenda c'era dentro fino al collo, uno che Biden, chissà perché, ha messo a capo del Penn Biden Center a supervisionare il luogo dove Biden portava i documenti riservati che lui si era portato via illegalmente. Insomma, tutta questa storia è davvero pazzesca e caotica. Ah, poi c'è Hillary Clinton e il suo server di posta elettronica privato. Ne ha parlato Dan Bongino. A proposito, Dan, il tuo programma mi è davvero piaciuto. Come funziona il sistema di autorizzazione a leggere le email del presidente? Ricordate quando Hillary Clinton aveva quel server di posta elettronica privato nel suo seminterrato e poi, quando ha saputo che era indagata per questo server, ha fatto ripulire quei server e ha fatto distruggere a colpi di mazzetta i cellulari? Ma la Clinton aveva anche un suo server privato di posta elettronica collegato e con quel server di posta elettronica privato, questa è proprio da ridere. Ricordate quel famoso cellulare BlackBerry che Barack Obama aveva fatto il diavolo a quattro per tenersi? È venuto fuori che il server di posta elettronica privato di Hillary gestiva le email riservate di Barack Obama. Il che significa che Barack Obama ne era a conoscenza, che Barack Obama c'era dentro fino al collo. Insomma, tutta questa gente ha fatto esattamente la stessa cosa per cui Trump ora è rinviato a giudizio. Ma non si mette per niente bene per questi signori. Comunque sia, vedremo mesi e mesi di questa volta l'abbiamo beccato. Tutti i riflettori saranno su quel processo, ma io penso che tutto questo darà a Trump quei minuti in onda che le televisioni non gli stanno dando. Avrete notato che quasi nessuno sta ospitando Trump in trasmissione. Devo dire che è un po' difficile. Anche io ho provato a invitarlo in trasmissione, ma non risponde. Ma ovviamente molti non lo hanno nemmeno invitato. Comunque, il processo li darà l'esposizione mediatica che non riceverebbe altrimenti. Proprio come abbiamo visto un forte aumento nei sondaggi quando è stato incriminato per Stormy Daniels, anche adesso sta salendo nei sondaggi. E i suoi concorrenti, gli altri candidati repubblicani, sono scesi. E anche De Santis ne risentirà perché il processo, come dicevamo, sarà in Florida, a Miami. Ma non è finita. Ci sono altre due incriminazioni per cui vorrebbero rinviarlo a giudizio. Uno è il procedimento della Georgia relativo ai brogli elettorali e all'accusa che Trump avrebbe cercato di interferire con le elezioni per aver chiesto un'indagine. Anche in questo caso probabilmente avrà un processo equo, ma non credo che nemmeno questo porterà a niente. un presidente che protesta un po' denunciando dei brogli. Chi non l'ha mai fatto? Bill Clinton lo faceva. No, scusate, era Al Gore. Ricordate Al Gore e George Bush? Voglio un riconteggio. Io sigo un riconteggio. E che dire di Hillary Clinton che ha assunto una spia straniera, l'inglese Christopher Steele, mandandola a parlare con dei russi per fabbricare prove e informazioni false a danno di un avversario politico. per poi diffonderle in tutta la comunità di intelligence con l'aiuto della direzione del Partito Democratico. Il tutto per accusare Trump di aver fatto esattamente la stessa cosa che invece facevano loro, ossia complottare con la Russia per alterare il risultato elettorale. Hanno letteralmente complottato con due russi per fare disinformazione al fine di interferire con le elezioni in collusione con una spia straniera, Christopher Steele, usandola come una sorta di intermediario. Ridicolo. Comunque, il procedimento più importante è quello di Washington e credo abbiano intenzioni di dipingere Trump come una specie di El Chapo, come Pablo Escobar, perché avrà dovuto affrontare tutti questi processi. ma è solo un attacco politico. Lo faranno passare per criminale incallito. Arriverà a Washington con guardie armate non per proteggere lui dal pubblico ma per proteggere il pubblico da lui. Faranno credere che la scorta presidenziale serva a difendere la gente da lui perché si tratta di un pazzo criminale fuori controllo. Immaginatevi che razza di processo potrà mai avere a Washington. Insomma, è tutto teatro. E come andrà a finire? Nella storia non ha mai funzionato. Non ha mai funzionato con nessuno. E la storia si ripete sempre. Un candidato politico molto popolare viene attaccato dal sistema. Magari va anche in prigione per un po'. A volte vince dalla prigione oppure esce e vince. La storia lo ha dimostrato più e più volte. Non si può far fuori un avversario politico perseguitandolo a livello giudiziario. È una cosa che non funziona. Io credo che il vero obiettivo questa è solo la mia opinione personale naturalmente sia quello di dipingere Trump come uno così sporco inaffidabile pericoloso e irresponsabile che l'establishment repubblicano e magari anche i suoi elettori non vogliano più saperne di lui. L'obiettivo è che Trump diventi sinonimo di scandalo ogni volta che se ne parla così da poterlo associare alla supremazia bianca all'insurrezione alla misoginia e agli abusi sulle donne eccetera fino al punto che essere associato in qualsiasi modo a lui ti renda automaticamente uguale a lui. Questo è il vero obiettivo di questa strategia persecutoria che però non funziona. E perché? Perché i democratici hanno fatto un errore irrimediabile il più stupido errore della storia ma era facile caderci e si ritorcerà contro di loro. Cosa hanno fatto i democratici di tanto fallimentare? Hanno attaccato la base di Trump hanno accusato più di metà del paese dicendo le stesse fandonie di cui accusano Trump. Ora se Trump viene incriminato per i fatti del 6 gennaio metà del paese teme che l'FBI bussi alla sua porta con accuse simili. Metà del paese ha visto persone buttate nei gulag perché protestavano contro dei brogli elettorali mentre i democratici avevano fatto la stessa cosa per più di 4 anni. E ricordiamoci che i sondaggi dicono che la maggioranza dei repubblicani quasi tutti i repubblicani e anche la maggioranza dei democratici riconoscono che i brogli elettorali esistono e che sono un problema serio e si sentono minacciati dallo stesso sistema che vuol distruggere Trump. Se si pensa alle accuse del movimento Me Too la maggior parte degli uomini e anche delle donne credo sa che si tratta di un gioco politico. Sì, certo ci sono casi veri di stupro e fatti terribili ma in gran parte si tratta di vendette personali e faziosità politica e Trump è stato colpito da questa arma politica. Diciamo la verità i procedimenti hanno basi debolissime. Se pensiamo ad Alvin Bragg chi può pensare di avere un processo equo a New York a meno di non essere un vero criminale ovviamente. Chi ha fiducia nella magistratura di New York? Alvin Bragg ormai è il simbolo della corruzione della giustizia di New York. non funziona. Nessuna di queste cose reggerà. Hanno fallito proprio in pieno perché la base di Trump è rimasta al suo fianco negli ultimi due anni e mezzo mentre veniva accusata per lo più delle stesse cose. La base non vede Trump come un estraneo lo vede come un simbolo perché l'idea è siamo tutti sulla stessa barca. La base solidarizza con Trump si identifica in lui. Non solo. Trump ora è visto come l'uomo che sta in piedi sulla porta a prendersi i proiettili mentre gli altri cercano di mettersi in salvo. L'unico rimasto a difenderli. Vedono Trump come l'uomo che sta incassando tutti i soprusi che altrimenti subirebbero loro. Per cui è impossibile che riescano a distruggerlo in questo modo. I democratici hanno attaccato in ogni modo la base di Trump accusandola delle stesse cose di cui accusa Trump stesso. Per questo la base di Trump non lo abbandonerà mai in seguito a questo genere di attacchi.